Amalfi e l'intera costiera amalfitana dovranno attendere le indagini per accertare le eventuali responsabilità sul crollo del costone roccioso prima di poter far partire i lavori per il ripristino della viabilità. Il sequestro del fronte franoso è un atto dovuto nell'ambito dell'inchiesta che vede al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Salerno. Ma nel frattempo è tutto pronto per iniziare, come è emerso dalla riunione che si è svolta questa mattina al genio civile di Salerno con la presenza del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca. Il governatore ha garantito che la regione metterà a disposizione tutti i fondi necessari per la messa in sicurezza dell'aria che ovviamente non può rimanere nelle attuali condizioni in considerazione del grave disagio venutosi a creare. La costiera amalfitana è spezzata in due e la regione ora sarà impegnata in una verifica anche su altri interventi di messa in sicurezza che dovranno essere realizzati e sui progetti infrastrutturali già programmati e finanziati e che riguardano questo tratto di costiera come ha confermato il vice presidente della regione Fulvio Bonavitacola. L'idea è che ovviamente occorre intervenire con regole della buona tecnica, è un problema esclusivamente tecnico. Ovviamente la prima cosa da fare è la messa in sicurezza del costone per tutelare l'incolumità e per poter ripristinare poi il tratto della statale che è il primo obiettivo. Non possiamo avere la costiera spezzata in due per molto tempo. L'obiettivo della regione è quella di far scattare interventi immediati per il ripristino della circolazione e la messa in sicurezza del costone interessati. Occorrono tempi straordinari e un lavoro su tre turni 24 ore su 24 anche nelle ore notturne. L'ANAS ha eseguito tutte le verifiche tecniche dalle quali risulta che è possibile raggiungere l'obiettivo prefissato di un intervento definitivo e non provvisorio in 90 giorni. Soddisfatto per l'esito della riunione il sindaco di Amalfi Daniele Milano. La riunione è stata molto positiva, il governatore è stato estremamente risoluto nel determinare un indirizzo affinché si pervenga nel più breve tempo possibile al ripristino della viabilità principale sulla strada statale e anche della sovrastante pedonale di Via Annunziatella. È stato definito un primo orizzonte temporale insieme ad ANAS perché soggetti diversi dovranno compiere questi due interventi. La regione ha garantito il supporto economico per la realizzazione degli interventi a farsi. Ribadisco la mia soddisfazione per l'incontro di stamattina fiducioso che in tempi ragionevoli riusciremo a ripristinare la viabilità sulla strada statale amalfitana soprattutto per salvare l'imminente stagione turistica che rappresenta la principale economia di un territorio che è attrattore turistico di fama internazionale.